Quando vuoi? Allora per dimostrarvi la bontà degli effetti e appunto la fedeltà che non c'è nulla di digitale che poi andrà a cambiare il suono della vostra chitarra, suoniamo con chitarre diverse e adesso vedete come a secondo la chitarra che viene collegata il suono ne risulterà automaticamente diversa. Questa è la Stratocaster, io ho una modifica fatta in cui posso utilizzare un embanker per un single coil però questa cosa me la faccio notare con il distorsore stesso. Questa è un single coil ottima per le ritmiche, per quegli accompagnamenti non troppo pesanti. Quando poi si nota la bellezza della Stratocaster, i miei accompagnamenti, qua con il delay ancora di più, questo è il single metal. Per avere qualcosa di più aggressivo basta collegarvi l'embaker. Questa è la propria conduta collegata. 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 restituisce il suono cristallino, una dinamica seppolta un po' più forte, perfetto, col compressore sostendere, essendo una chitarra comunque un po' più rocchettara, con meno sostendere di suo, mi permette di prolungare l'impulsione e avere un suono più corposo. Facciamo un cambio in corsa, poi il mio assistente Andrea mi dà la corte, la corte, la corte, facciamo vedere con un suono un po' più pesante, corde notevolmente diverse, questa montava le 0,10, questa montava le 0,12, ok, come il suono cambia, vedete come il suono diventa bello corposo, questo è il classico suono dell'embaccio. I giochetti con il pulito che facevo prima sono un po' più difficili, cioè con la distorsione non troppo pesante, è un po' sturdata. Ovviamente questa chitarra ha un suono molto più presente di bassi, più corposo, quindi è un bagnamento tipico del rock, non riesco più a restituirlo, posso provarci abbassando molto il volume del piccato, il suono con la statocastera totalmente diverso, questo appunto per dimostrare la cristallinità del pedellino. per dimostrare la distorsione con i led, per dimostrare la distorsione con i led, per dimostrare un po' di alto, per mantenere quel tipo di suono devo andare necessariamente per forza di contro c'ho un suono molto più aggressivo, di contro, una cosa notevolmente superiore. Quindi come vedete, stesso pedale, regolazioni leggermente diverse sono completamente diverse, si può ottenere ciò che si vuole, basta semplicemente stare lì un attimino a studiare, a studiare sopra questo distorsione overdrive o più overdrive e distorsore e otteniamo i suoni che vogliamo.